Sabato sera a Marciana Marina la premiazione del vincitore del premio Strega 2011. In piazza della Chiesa insieme ad Anna Corradini Porta, Edoardo Nesi, vincitore del premio con il libro Storia della mia gente. Sì, abbiamo questa fortuna, questo onore di essere proprio la seconda battuta dopo il ninfeo di Villa Giulia e questo lo dobbiamo ad Anna Maria Remo Aldi, carissima amica che ogni anno quando arrivo qui e so che lei non c'è, che è andata, veramente mi spiace e mi commuove perché tante volte insieme su quel palco mi sembra ancora di averla lì, quindi dobbiamo a lei se questo premio Strega tutti gli anni passa dall'Elba insomma lasciandoci una bella scia d'onore, quindi le siamo sempre grati. Quest'anno a Vintonesi, un toscano di Prato, assessore alla cultura, un uomo intelligente che ha scritto un libro un po' come Veronesi qualche anno fa, anche lui toscano, sulla gente che lavora infatti lui ha scritto questo libro dal titolo Per la mia gente, no? Storia della mia gente. E' così, da questa attenzione che hanno i toscani per la loro gente, per il loro mondo, il mondo del lavoro che senz'altro sta attraversando un periodo non felice, con tutti questi precari, la gente che non trova lavoro che ha perso il lavoro e quindi è anche giusto che degli autori buoni, di buona scrittura se ne occupino quindi sarò felice di incontrarlo e di parlare di questo libro. L'incontro con Nesi avrà inizio alle ore 22 e vedrà la partecipazione anche di Pietro Ceccatelli della Nazione di Prato e di Stefano Petrocchi della Fondazione Maria Goffredo Bellonci.